vediamo in azione la nuova funzione sorpresa di pronostico.it nella sua versione premium allora prendiamo due partite sono entrambi due under iniziamo con questa che coppa del venezuela qui abbiamo un under 2,5 una stella 71 per cento e un under 3,5 che rafforza di fatto l'under 2,5 come vedete la quota è 1,80 quindi una bella quota e c'è un fattore sorpresa molto bassa quindi non dovrebbero esserci rischi nei confronti di questo pronostico il fattore ribaltamento anche abbastanza basso oppure questo è comodo perché se c'è un fattore ribaltamento alto magari più facile che esca un over andiamo a vedere un'altra partita questa qui che è il campionato brasiliano di serie a qui c'è un under 2,5 71 per cento una stella ma come vedete il fattore sorpresa è alta il fattore ribaltamento è lo stesso però il fattore sorpresa è alta che succede che questa quota è 1,50 quindi secondo i bookmaker è molto più probabile questa di partita rispetto a quella di prima che era 1,80 però qui abbiamo un fattore sorpresa alta e quindi tra le due preferisco paradossalmente giocare un under 2,5 1,80 perché c'è meno rischi naturalmente ragazzi non è che bastano questo e questo vedete sempre tutti quanti gli indicatori seguite il metodo del libro quota scommesse calcio questo nuovo indicatore anzi questi due nuovi indicatori la funzione sorpresa che abbiamo visto nel dettaglio oggi e la funzione ribaltamento sono comunque elementi aggiuntivi rimane il fatto che va studiata tutta la partita però se tutta la partita va verso l'under e ho due under identici facciamo conto che ci piacciono tutte e due preferisco quello dove la sorpresa è molto bassa